Le vecchie teorie sul multiverso ipotizzavano che il multiverso potesse essere di tre tipologie Certo Multiverso a bolle, a membrane o quantistico Bene, erano sbagliate E in realtà il multiverso è fatto a cavatelli A cavatelli? Cioè la pasta? Sì Giuseppe, vedi io mi trovavo a Bari Vecchia Dove mi reco spesso per addestrare il mio terzo occhio Camminavo per i vicoli e mi sono imbattuto in questa signora, rosa Che faceva le orecchiette, gli orecchioni, i cavatelli Con il dito li strascinava con il dito Ed è lì che ho avuto questa intuizione Quindi potremmo dire che se ogni cavatello è un universo Questo significa che c'è un creatore che genera il cavatello universo con un dito Io Gianni, quando mi immagino Dio me lo immagino come una primordiale signora rosa Grazie 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 Grazie